attenzione è avvenuto il fork di bitcoin cash ma delle due catene ce n'è una quella abc che non ha nuovi blocchi minati quindi in questo momento delle due catene nate dal fork di bitcoin cash solo una bchn cioè bitcoin cash node ha dei nuovi blocchi l'altra per ora è ferma questo potrebbe anche voler dire che potrebbe essere abbandonata e potrebbe non nascere nessun'altra nessuna seconda criptovaluta nessuna nuova criptovaluta da questo fork di bitcoin cash ci aggiorneremo